In Italia circa 6 milioni di persone sono affette da gozzo. Si stima che ogni anno vengano diagnosticati circa 60.000 nuovi casi di patologia nodulare della tiroide. I noduli tiroidei sono quasi sempre benigni, tuttavia nel 5-7% dei casi possono essere un cancro tiroideo. L'ecografia è una metodica semplice, rapida, economica, non invasiva, grazie alla capacità di individuare le lesioni a maggior rischio di malignità. Partecipa anche tu alla giornata di screening gratuito della tiroide. Ti aspettiamo domenica 30 luglio dalle 10 alle 19 presso l'hotel Le Dune di Sabaudia. Fai anche tu la cosa giusta, prevenire si può.